Oggi è la giornata europea delle fondazioni, in 120 luoghi di tutta Europa si celebra questa giornata perché anche a Pesaro c'è una grande tradizione e un grande lavoro di solidarietà che viene fatto attraverso il terzo settore, il mondo dell'associazione, attraverso le fondazioni di vario genere. La fondazione Vanda di Ferdinando e la fondazione Cassa di Risparmio sono tra i soggetti che a Pesaro contribuiscono a valorizzare, ad aiutare, a contribuire, a realizzare tante degli aiuti che facciamo alle persone, il sostegno alla persona, il sostegno alla cultura, il sostegno alle attività economiche, a livello sanitario, tante delle attività che vediamo realizzate anche di grande rilevanza a Pesaro e grazie alle fondazioni. Sono forme giuridiche molto importanti che pochi conoscono e grazie a questa iconografia realizzata oggi e la stessa realizzata nei 120 luoghi si vuole raccontare questo. Un momento importante che ribadisce il principio di sussediarietà, cosa vuol dire? Dove non arrivano le istituzioni pubbliche si cerca di arrivare con il coinvolgimento di altre azioni, anche private. L'ho realizzato insieme alle mie colleghe in collaborazione, oggi loro non possono essere qui. Il dipinto in realtà ha una parte figurativa che è la stessa per tutte le fondazioni in questa giornata che noi abbiamo declinato a tema Afghanistan, quindi siamo partiti dal colore blu per poi incontrarci con loro che invece è un elemento tipico della cultura occidentale. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di pace e di cooperazione tra due mondi che sembrano sempre tanto lontani ma che invece non lo sono e che da sempre collaborano, sostenuti appunto dal lavoro fatto dalle fondazioni che ogni giorno si adoperano affinché i progetti culturali possano sopravvivere, che piccole realtà come la nostra possano sopravvivere, ma che soprattutto fanno della cultura una vera missione. Si è anche un QR code che praticamente esprime anche quelli che saranno gli altri dipinti negli altri 120 luoghi. Si, il QR code rimanda alla giornata di inaugurazione e alle opere che sono state realizzate in tutta Italia dove appunto ogni realtà l'ha declinata in base alla propria visione.